Buonasera, ci ritroviamo sul canale Stefania Grasso, piattaforma fotografia, anche su YouTube per parlare oggi di una rassegnatura annuale Autumn Visions proposta da Landscape Photography Magazine. Personalmente ho candidato quattro fotografie, tutte selezionate per questa proiezione multimediale. Si tratta di due immagini scattate alla S.A.L. e due in provincia di Vercelli, a Prarolo e a Pezzana. Partiamo proprio dalla cascata dell'Entenei, adesso vi condividerò lo schermo, dove andiamo a vedere questa immagine autunnale, questa cascata è posta a pochi chilometri dalla S.A.L. lungo la strada statale 26 che conduce a Derby, lungo l'itinerario del Cammino Valteo. è una cascata alimentata tramite ghiacciaio del gruppo Paramon, ma ci siamo mai chiesti nell'ambito delle scienze naturali come funziona lo schema sull'acqua dolce e sull'idrosfera? Lo vediamo adesso con una sorta di breve glossario online. Ecco qua. Qui abbiamo la sorgente glaciale, punto dove si è originale il fiume, segue l'Ansa, cioè la curva del fiume, l'Alveo, denominato anche letto del fiume, la cascata è un salto d'acqua generato da un dislivello inclinato oppure verticale, dicesi fiume, un corso d'acqua perenne che scorre, cioè continuamente. La parte terminale del fiume si chiama foce, che è a delta, se vedete come in questo caso è più ramio, oppure a estuario che è già più una forma di imbuto. Dire affluente, dire emissario, in realtà potrebbe essere allo stesso termine, cioè un fiume che entra in un altro fiume, un corso d'acqua che si mette in un altro corso d'acqua, l'emissario invece potrebbe essere un fiume, un torrente che esce da un altro corpo idrico. L'insieme di tutte le anse prende il nome di meandro, mentre il tratto iniziale del fiume si chiama ruscello, mentre il torrente rappresenta un corso d'acqua intermittente. Ritorniamo alla nostra trattazione sull'entenei, io suggerisco di compiere questo percorso in ottobre, perché c'è meno gente, c'è una vista molto bella sul Monte Bianco, nella pace, nel silenzio, con dei colori molto belli che possono essere utilizzati come sfondo. Rimaniamo sempre alla sala e andiamo a vedere questa panoramica sul Mon Maudì, una panoramica che vedete tipicamente autunnale perché le ortensie qui sono sfiorite. Che cos'è il Mon Maudì? Una vetta tra il Monte Bianco e il Monte Blanc du Dacul, al confine tra l'Italia e la Francia. Il nome di questa montagna, Maudì, deriva da una leggenda, secondo la quale c'erano degli spiriti maligni che volteggiavano attorno al Monte Bianco, provocando delle catastrofi naturali nei borghi di Mitrofi. Si narra che un giorno Maudì Natura colse le preghiere dei residenti e finalmente questi residenti trovavano una pace tanto desiderata e l'armonia. Da un punto di vista fotografico, qui è consigliabile non sottoesporre ulteriormente per cogliere in pieno la fase transittoria dall'estate all'autunno. Ritorniamo in pianura, ci spostiamo a Prarolo, siamo in provincia di Vercelli, per chi non conoscesse questo piccolo paese. Qui abbiamo una vera e propria visione autunnale, dove qui è stata utilizzata la modalità scena autunnale sulla Nikon per cogliere al meglio i colori autunnali, quindi rossi in questo caso. In condizioni di scarsa luce è meglio utilizzare un treppiede. Questi colori vanno a introdurre l'ultima immagine che vedete qui, l'area del cimitero di Pezzana, di fianco al santuario della Beata Vergine delle Grazie, che è posta lungo il percorso della Via Francigena. In dialetto questa zona è nota come Madonna d'Abbas, che Pezzana è posta secondo la tradizione locale su due livelli, Pzana d'Anshu, che è il paese dall'alto, e Pzana d'Abbas, che è l'area che conduce verso la Lombardia, verso Pizzarrosto. Ma che cosa è dovuta a questa bellissima colorazione autunnale? Anche qui andiamo a vedere una breve spiegazione. Adesso adesso non c'è da nulla. Allora. E' qui sul coroplasto, eccola qua. Nella particolare, i pigmenti di natura lipidica dei vegetali detti carotenoidi. I carotenoidi sono i pigmenti contenuti in particolare i tipi di plastidi, che prendono il nome di cromoplasti. Dire croroplasti e dire plastidi è la stessa identica cosa. Noi ci soffermiamo questa volta sui cromoplasti, questi che contengono i carotenoidi, quindi sono privi di corofilla, e conferiscono il tipico colore autunnale arancione, giallo, rosso, alle foglie. Si trovano anche in altri organismi fotosintetici, ad esempio le alghe, e sono contenuti in questi cromoplasti, cioè privi di corofilla. Sono organelli tipici, esclusivi, delle cellule vegetali. I cromoplasti accumulano anche altri tipi di pigmenti, che sono gli antociani, e si ritrovano sia nei fiori che nei frutti. Poi abbiamo anche un'altra serie di sostanze, che sono le xantofille, che sono simili ai carotenoidi, ma contengono l'ossigeno. Rieccoci. Allora, io vi saluto con questa breve trattazione, spero vi sia piaciuta. Mi do l'appuntamento mercoledì sera, 13 dicembre, alle ore 21, su questa piattaforma troverete, potete chiedere il link all'indirizzo email che vi metterò nella descrizione su YouTube, oppure per chi mi conosce può anche chiedermelo via WhatsApp, io comunque manderò una serie di inviti, ci sono anche sulla mia pagina Facebook pubblica, Stefania Grasso Photographer. Mercoledì presenterò il fotolibro dedicato alla storia di Passo Sempione di Simplondorf, vedremo alcune immagini di questa bellissima valata svizzera al confine con l'Italia. Si parlerà non solo di storia, ma anche ovviamente di scienza naturale, di mineralogia, si parlerà di gatti e ci sarà della buona musica. Quindi ho un'occasione per scambiarci poi alla fine, quando chi vuole canteremo tutti insieme, per scambiarci gli auguri di Natale. Al momento vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon inizio di settimana. Ciao! Ciao! Grazie.